Un ribaltone nel finale con la doppietta di Montemurro permette al team Altamura di portare a casa tre punti contro il Gragnano dopo il pari interno di mercoledì contro il Taranto e concludere un trittico di gare in una settimana rilanciandosi in classifica in quarta piazza. Il tecnico Leo Di Benedetto assente perché squalificato si affida ad un 3-5-2 mutevole con Palazzo e Tedesco in avanti ma con Guadalupe e Montemurro pronti a supportare il gioco altamurano. Il Gragnano di Giacomarro ha in Talia Poziello ed il giovanissimo Gassamà le frecce nell'arco per scardinare la difesa murgiana. Inizio vivace con entrambe le formazioni decisamente aggressive. Si fa tuttavia preferire il Gragnano che detti ritmi di gioco anche se le occasioni da rete latitano. Primo tempo avaro di emozioni e con la team Altamura attenta a non subire le ripartenze di casa. Nella ripresa il Gragnano è subito vivace e si vede annullare una rete per un presunto fuorigioco di Talia. Tre soli minuti ed è bravissimo ancora Scarano a deviare in corner una conclusione di Gassamà. Poi la replica altamurana arriva con Montemurro che ci prova in rovesciata al dodicesimo ma la sfera è al lato di poco. Ma alla mezz'ora è proprio Gassamà a portare in vantaggio i padroni di casa. Leggerezza in fase di disimpegno di Di Benedetto che si fa rubare palla proprio dal giovanissimo attaccante del Gragnano. Abile a battere con freddezza Scarano. È 1-0 ad un quarto d'ora dal termine ma l'altamura non ci sta e si riversa nella metà campo di casa e proprio allo scadere arriva il pari. Grazie ad una bella giocata da destra finalizzata dal perfetto piazzato di Montemurro nel cuore dell'area di rigore. Palla a centro campo ma il Gragnano imbambola e gli ospiti sfruttano al meglio le indecisioni della difesa di casa. Azione quasi fotocopia due minuti dopo e sempre da destra il perfetto assist per Montemurro che di piatto beffa nuovamente Sorrentino. Gara ribaltata in due minuti e festa per l'altamura di Leo Di Benedetto. Si interrompono a due le vittorie dei campani attesi domenica prossima ad Andrea mentre una sconfitta un pari ed una vittoria per la team altamura in questo trittico di gare con il quarto posto guadagnato a pari merito con il Nardò.